Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà, Italia. Ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà, sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Nuovo appuntamento con Sportello Reclami, oggi siamo nella zona di Via Tommaso Sgricci, anche qui c'è un parco pubblico presunto tale, assolutamente preda dell'incuria e della malmanutenzione. Ciao a tutti, oggi siamo ad Arezzo, esattamente Via Tommaso Sgricci. Davanti alla PAM c'è un parchettino pubblico che ha delle magagne. Ce ne parla un consigliere comunale di Forza Italia, Aretino, Roberto Breda Bardelli. Sì, come poi succede sempre, questo piccolo parco, che all'epoca fu fatto con gran cassa e grande movimento di cose, si è rivelato l'ennesimo flop, effettivamente è tenuto male, mal gestito. I cittadini di spazzatura sono sempre pieni, buche, erba sempre da tagliare. Ci sono buche pericolose, spazzatura per terra, dei tombini malmessi, ma in che mondo siamo? Sì, proprio così. E come appunto dicevo prima, in altre occasioni, ma basta girare la città e la situazione è chiara a tutti, si fa tanto per fare, tanto per mettere delle bandierine, poi dopo la classica manutenzione ce ne dimentichiamo, perché tanto l'importante era fare qualcosa in quel momento, dopo ci si dimentica di queste situazioni e tutto va in tralascio. Anche in questo caso il degrado piano piano si sta sopravvanzando. Bardelli, lei è un consigliere comunale anche se dell'opposizione, ma a lei chiediamo chi deve prendersi cura di questi parchi? Direttamente il comune oppure sono stati appaltati a qualche società esterna? Sì, questo è un annoso problema, il fatto che nel tempo la manutenzione è stata smantellata e quindi di volta in volta affidate a agenti esterni. È logico, non bisogna generalizzare, c'è chi il lavoro lo sa fare e c'è chi invece un po' si lascia andare, ma il problema è tutto nel manico, la colpa non è di chi ci lavora, ma bensì di chi dovrebbe gestirla e non è in grado. Tra i vari problemi si aggiunge anche l'erba alta, ebbene questo parco è purtroppo l'emblema della città di Arezzo, troppo trasandata. Sì, il dato di fatto è questo, Arezzo è sotto l'occhio di tutti in un degrado totale e purtroppo non se ne vede la via d'uscita. Basta girare non solo in centro, ma anche quelle che sono le immediate periferie o anche le frazioni e si capisce che il cittadino da sé non ce la fa perché non ha i mezzi. Questo stato di cose aumenta la sfiducia del cittadino nelle istituzioni ed alimenta questo sentimento di antipolitica. È vero, è vero perché poi diciamo che il cittadino è stanco, è anche avvilito, un po' mareggiato, non fa più differenza tra chi in quel momento ha da amministrare e tra chi in quel momento invece ha l'opposizione e quindi di fare tutto nel buon fascio. Però è comprensibile, la gente francamente non ne può più. Spesso e volentieri le troviamo la scusa, ma siamo ancora in una città vivibile, una città piccola. Sì, però la verità è che se te lasci andare per l'altra volta, dopo tutto si tralascia e da lì parte il degrado. Non bisognerebbe mai lasciare che si partisse con queste cose. Questa potrebbe essere un'idea. Ci sono tanti ragazzi giovani che purtroppo non hanno il lavoro, sono disoccupati. E quindi perché il comune non li destina alla manutenzione dei parchi, pagandoli naturalmente? Ecco, questo è un aspetto molto importante, che molto spesso parliamo di persone che non avendo lavoro sono disoccupate e dovrebbero fare queste opere. Però io dirbattisco sempre che le persone vanno pagate per il lavoro che fanno, anche se poco o con contratti occasionali vanno pagate. L'occasione è buona, la città ne avrebbe bisogno, possono anche sorgere delle cooperative apposta per queste cose, quindi è un'occasione d'oro per poterla utilizzare. Sempre però, mi piace sempre sottolinearlo, non pagando, quindi con solo volontà della gente, ma anche quel poco pagando persone che poi fanno queste operazioni. Ci fermiamo solo per un attimo, torniamo tra poco dopo gli spot. Di nuovo da linea Massimo Gianni, questa volta da Via Tommaso Sgricci ad Arezzo, dove regna incuria e manutenzione in un pezzetto di un parco pubblico. Via via nel corso della nostra trasmissione ci siamo occupati di tanti parchi della città di Arezzo, però il comune denominatore ci pare essere sempre il solito, cattiva manutenzione. Qui il discorso che le mamme e le famiglie che frequentano i parchi continuano a segnalare, a farci presente le situazioni di pericolo e di degrado che ci sono, ma allo stesso tempo sono tutti sordi, nessuno risponde. La verifica che abbiamo fatto noi personalmente è il discorso delle buche, il discorso dei tombini che sono traballanti, il fatto dell'erba incolta, siamo in prossimità degli asili, quindi essendo in prossimità degli asili, questa erba incolta comporta anche problematiche legate alle zecche, il fatto poi che si trovano anche rifiuti buttati a terra, quindi i cestini non vengono assolutamente svuotati costantemente. Cioè questo disinteresse verso i parchi, che dovrebbe essere la zona dove le famiglie, dove la gente si incontra, i punti di ritrovo, i punti dove si può stare anche in tranquillità, sono in totale degrado e quindi la gente è anche meno invogliata a starci. Una cosa è certa, in questo caso siamo davanti a un fenomeno di poca manutenzione. A questo punto occorrerebbe una presenza più costante per la manutenzione, oppure, come è stato detto da molte persone, cercare di coinvolgere quelle persone che sono senza lavoro ad essere presenti in questa manutenzione costante. Certo, non gratis, cercando di dargli un contributo per un vivere decuroso, cercando un pochino di gestire queste cose e non delegando sempre a chi poi non è presente nel controllo e nella pulizia dei parchi. E c'è anche una buca molto profonda e di conseguenza particolarmente pericolosa che ci è stata segnalata. Sì, certo, è la buca che abbiamo verificato, praticamente entrandoci dentro ci arrivo fino a ginocchi io, quindi se ci casca un bambino è pericoloso, c'è il rischio che si possa far male. Questi controlli andrebbero fatti, però c'è questo disinteresse. Occorre essere più presenti in queste zone perché i parchi sono importanti per i giovani, importanti per tutti, lasciati così allo sbando, logicamente i rischi di farsi male c'è e quindi ci vuole un'attenzione più costante, più presente. Amici, finisce qui il nostro odierno appuntamento. Grazie per essere stati con noi. Linea a Roberto Francini. E anche per oggi è tutto, grazie della vostra attenzione, ma soprattutto grazie delle vostre segnalazioni a sportelloreclami.chiocciolateletruria.it Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Potete accedere naturalmente ai commenti e lasciare un vostro messaggio anche nella pagina Facebook dedicata proprio alla nostra trasmissione oppure alla nostra emittente. Insomma, i social oggi ci aiutano ad essere in contatto con voi sempre in maniera più capillare. Grazie ancora e a domani. Ci sono cose che nessuno ti dirà Ci sono cose che nessuno ti darà In Italia Ci sono cose che nessuno ti dirà Ci sono cose che nessuno ti darà Sei nato e morto qua Nato nel paese delle mezze verità